Fratto Shakaan, chissà cosa troveremo. La priorità è uccidere tutti... La priorità è uccidere tutti... C'è un soldato nemico. Vinci questo scontro e tornerai al fronte. Perdi e te ne tornerai. Risolvi con le maniere... Vai tornare in prima linea. L'auto di equipaggiamento per voi. L'auto di equipaggiamento per voi. L'auto di equipaggiamento per voi. L'auto dei equipaggiamento per voi. Sì, raggiungiamo! Sì, raggiungiamo! Sì, raggiungiamo! Il gas vi è quasi addosso! Marco, il punto di raduno! Marco, il punto di raduno! Il gas si avvicina! Nuova zona sicura per voi! Marco, il punto di raduno! Calcio di equipaggiamento in arrivo! Ultimi dieci! Non devi mollare! Ricognizione in corso! UAV in sorvolo! Il gas è sempre più vicino! Alla nuova zona sicura! Gas in arrivo! Ultimi cinque! Forza! Il gas è sempre più vicino! Il gas è sempre più vicino! Il gas è sempre più vicino! Perfetto! Il gas è sempre più vicino! Sì 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 Fate piazza pulita dei bersagli Sì 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 Un tratto iniziato all'opera C'è un soldato nemico Sì 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 Sur the Sì 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 Grazie a tutti Grazie a tutti